Buongiorno e buona domenica nel Signore! Oggi 31 ottobre 2021, siamo già giunti a fine mese. Il mese è finito, ora inizia novembre, un altro mese e vogliamo dire Signore grazie. Grazie perché ci dai ancora oggi la vita, grazie perché ancora oggi ci dai la possibilità di ascoltare la tua parola. Quindi con un cuore aperto, con un orecchio attento vogliamo dire Signore parlami perché sono in ascolto e voglio passare subito alla lettura del versetto della parola di Dio che oggi dice proprio così. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Lettera ai Romani, capitolo 6, il versetto 23. Ed ancora, Gesù gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Vangelo di Luca, capitolo 23, il versetto 43. E il titolo di questa meditazione biblica è questo, la morte e dopo? Molte persone evitano di riflettere sull'aldilà, adducendo come motivazione, nessuno è mai tornato indietro per dirci cosa c'è dopo. Affrontare con tanta superficialità una questione così solenne e universale allo scopo di eluderla non risolve il problema e non procura in alcun modo la pace interiore. La Bibbia documenta che Gesù riportò in vita diverse persone morte, in particolare Lazzaro, il cui corpo giaceva sepolto in una tomba già da quattro giorni. Questa parabola, questa storia della parola di Dio la puoi trovare nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, i versetti 43 e 44. Gesù, il figlio di Dio, lo risuscitò con la sua potenza, di fronte a una folla di testimoni oculari che ebbero modo proprio di assistere a un vero e proprio miracolo, quanto sensazionale quella che è la risurrezione. Per strada, tuttavia, prima di risuscitare Lazzaro, Gesù aveva detto a Marta, che è la sorella del defunto, Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Versetti 25 e 26. Per quale ragione Gesù affermava di essere la risurrezione e la vita? Perché egli stesso stava per andare a morire sulla croce e poi sarebbe risuscitato in virtù di quella stessa potenza di cui la parola di Dio offre molteplici testimonianze. Sono queste che danno a coloro che credono in Gesù la certezza che, pur passando attraverso la morte del corpo, risusciteranno e vivranno per l'eternità. Gesù a un certo punto afferma anche Se non ascoltano Mosè e i profeti, dunque ciò che dice la Bibbia, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Testo che puoi trovare nel Vangelo di Luca, capitolo 16, versetto 31. Egli precisa anche che dopo la morte ci troveremo o nei tormenti o nel riposo eterno con Lui. La nostra collocazione nell'aldilà dipenderà proprio dalla scelta che ognuno di noi avrà fatto in questa vita se avrà creduto al Signore o se lo avrà rifiutato. E tu cosa hai fatto di Gesù? Chi è Gesù per te? È il tuo Salvatore? O è solamente un personaggio storico? È colui che ti ha dato la vita eterna? O è colui che un giorno ti giudicherà? Perché così sarà. Anche questo lo puoi trovare nella Bibbia, non è un'invenzione mia o un pensiero mio. È scritto così. Un giorno ci troveremo davanti al Tribunale di Cristo. E quindi continuo a chiederti cosa vuoi farne di Gesù? Sai perché ti faccio queste domande? Perché sono sicuro che stai ascoltando questa meditazione, stai ascoltando questo video e io sono certo di due cose. Una è che hai fatto di Gesù il tuo Salvatore e sei salvato e gloria a Dio. Ma sono sicuro anche di un'altra cosa, che forse ci saranno persone che in questo momento non hanno fatto di Gesù il proprio Salvatore. E quindi hai bisogno di essere salvato. Hai bisogno di un liberatore. Hai bisogno di un Salvatore. Sai cosa ti serve soltanto? Neanche il pensiero potrebbe mai arrivarci. Ma ti serve solamente credere che Gesù Cristo è morto ed è risorto, ed è vivente, ed è seduto alla destra di Dio. Ti servirà solamente confessargli i tuoi peccati. E poi ti servirà solamente confessargli il tuo bisogno. In questo modo, Signore, io ho bisogno di Te. Signore, io ho bisogno di Te perché voglio andare in paradiso. Proprio come il ladrone sulla croce, come abbiamo letto. Quel ladrone in croce confessò il suo peccato. E gli disse a Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ha riconosciuto in Cristo Gesù il suo Salvatore. Ha riconosciuto in Cristo Gesù colui che ha un regno. Quindi, Dio, benedetto in eterno. Quindi non ti serve tanto. Non ti serve fare pellegrinaggi. Non ti serve andare in qualche luogo particolare. Ti serve solamente aprirgli il tuo cuore. Dio farà tutto il resto. Dio ti benedica. Buona giornata, buona domenica. E ci vediamo domani al solito appuntamento. Pace a te. Ciao. Ciao.